Questa mattina è un test importante anche perché si inizia a vedere con 300 tamponi quanto sarà l'afflusso e anche l'incidenza sul traffico cittadino. Io credo che come è stata studiata la viabilità adesso dovrebbe garantire comunque un leggero incremento sul traffico cittadino. Comunque stiamo valutando e nelle prossime ore comunque saremo attenti a valutare quello che è l'impatto sulla viabilità di questa zona di Gallarate. E comunque sia una cosa temporanea, cioè tutti quanti che tamponi e vaccini presto passeranno e quindi è un male che siamo disposti a sopportare per il bene della collettività.